eccoci qui siamo dalla giuliana a bergamo e ora i legianesi dal 22 al 26 di marzo saranno al creber di bergamo vi aspettiamo numerosi sappiamo che sta andando già veramente bene 7.000 biglietti di prevendita mi raccomando e vi aspettiamo con il nuovo spettacolo di della famiglia colombo dal titolo i colombo viaggiatori vi aspettiamo la teresa e giovanni ciao a tutti ciao